Il fratellastro di Meghan Markle, Thomas Markle Jr., 55 anni, ha bollato la duchessa come superficiale e ha detto di aver avvertito il principe Harry che gli avrebbe rovinato la vita mentre entrava nella casa dei VIP del grande fratello. Il fratello estraneo di Meghan Markle, amante della pubblicità, ha affermato di aver avvertito il principe Harry che sua sorella superficiale gli avrebbe rovinato la vita. L'estraneato Thomas Markle Jr., che una volta è stato arrestato con l'accusa di aver puntato una pistola alla testa di una donna, ha fatto la denuncia in un trailer per il grande fratello VIP. Punto. Il fratellastro di Meghan è cresciuto separatamente e non ha visto sua sorella per sette anni prima del matrimonio reale, ma ha comunque affermato di essere sconcertato ma non amareggiato quando non è stato invitato. Ma la sua apparizione tanto attesa rischia di portare ulteriore imbarazzo per i Sussex, riporta Tessan. In un trailer di anteprima si vanta sono il fratello di Meghan Markle, sono il fratello maggiore di tutti. Ha continuato aggiungendo. Ho detto al principe Harry, penso che ti rovinerà la vita. È molto superficiale. La versione australiana di Celebrity Big Brother verrà lanciata stasera e il 55enne apparirà in una formazione costellata di star che include Caitlyn Jenner e l'ex consigliere di Trump Manigold Newman ma non Katie Hopkins che è stata licenziata e cacciata dal paese per aver violato il Covid-19 regolamenti. La relazione di Meghan con Thomas e suo padre Thomas Markle SR è stata tesa dal suo matrimonio nel maggio 2018. All'epoca il suo fratellastro parlò, implorando il principe Harry di non sposarla poiché ovviamente non era la donna giusta per lui. Nonostante la durata del loro allontanamento, il padre di due figli ha affermato di essere ferito visto quanto eravamo vicini una volta, ma ha insistito sul fatto che non era amareggiato. Ha aggiunto di essere confuso e un po' sconvolto per essere mancato dalla lista degli invitati e ha accusato Meghan di dimenticare la sua carne e sangue. L'anno precedente era stato arrestato in Oregon con l'accusa di aver puntato una pistola alla testa di una donna durante una lite tra ubriachi e un anno dopo il matrimonio era stato nuovamente arrestato per guida in stato di ebbrezza.